Ne avevamo parlato, vi ricordate quando parlavamo delle copie? Oggi siamo finalmente su questo set Made in Italy che è iniziato il 24 ottobre proseguirà fino a marzo per andare in onda poi a settembre-ottobre dell'anno prossimo una bellissima produzione, Tau 2 e The Family e tra l'altro i diritti già venduti all'estero da chi iniziamo? Noi siamo molto contenti perché è una produzione bellissima, è bello il tema è bella la produzione, è bello lavorare con due registi, devo dire fantastici che hanno trovato un equilibrio perfetto sul set è una produzione che si vedrà, che farà parlare di sé insomma siamo molto fiduciosi, siamo molto contenti di quello che stiamo facendo abbiamo trovato una ragazza che secondo noi avrà un brillante futuro insomma nella cinematografia italiana sicuramente speriamo per lei anche internazionale e quindi per The Family è un bel salto in avanti insomma insomma voi l'avevamo detto eravate già abituati a lavorare in coppia però quella di due registi, due galli nel pollaio è sempre un'incognita invece stanno andando da Dio e siete affiatatissimi e bravissimi i complementari beh diciamo che comunque come già diciamo all'epoca io e Luca ci conosciamo da quando avevamo i pantaloni corti per cui come dire l'intesa già c'era all'epoca personalmente se non ci fosse lui non saprei veramente come farla sta roba mi sembra un'impresa massimo rispetto per i registi che fanno le serie tutti da soli è un'impresa titanica sono sei mesi di lavoro ininterrotto 24 ore su 24, sette giorni su sette e quando ti siedi c'è uno che ti dice scusa ti puoi alzare che quella sede è di scena per cui se non sei in due devi avere dei superpoteri che io non ho personalmente saranno otto puntate vabbè tu sei già abituato a far cinema però insomma una serie diversa è la prima serie anche per te no in realtà è la seconda però la prima era un esperimento particolare perché era una serie The Comedians con Bizio e Matano in cui anche il modo di girare era particolare questa è una serie molto cinematografica e devo dire sicuramente super eccitante molto faticosa ma anche ovviamente ci siamo ritrovati con Ago e c'è una sinergia stupenda abbiamo un cast eccezionale perché oltre a Greta Ferro che è una scoperta veramente interessante abbiamo anche in tutti i ruoli da Margherita Buia a Maurizio Lastico, a Sergio Albeglie, a Giuseppe Cederna a Fiammetta che è un'altra scoperta veramente adesso noi stiamo girando la parte in redazione hai proprio voglia di... ti innamori di loro insomma vuoi starli a sentire, vuoi starli a ascoltare ti affezioni a tutti io devo dire poi mi innamoro anche dell'idea di vedere una serie girata a Milano e magari di poter pensare che ci sia un polo di cinema e di serie milanese sì per noi questo è stato un punto importante inizialmente diciamo prima della nostra entrata in scena la serie si doveva girare in teatro a Roma poi in realtà abbiamo proprio pensato insieme di spostarla a Milano c'è stata proprio questa volontà di costruire su Milano un'alternativa a Roma non per sostituire Roma che evidentemente non è sostituibile non avrebbe neanche senso ma proprio per creare un'alternativa ci sono ovviamente già realtà milanesi che lavorano qui e sono importanti però ci piaceva ci piace proprio l'idea di lavorare di più a Milano e secondo noi peraltro anche le competenze che abbiamo acquisito in anni di lavoro sui set pubblicitari mischiate all'amore per il cinema insomma che di fatto credo ci unisca io credo che possa dare dei bei valori aggiunti insomma dei prodotti anche nuovi questa se posso aggiungere una cosa è una cosa a cui io ho sempre tenuto ovviamente io vengo dalla pubblicità ho lavorato nel cinema e ho sempre detto certo se ci fosse certe dinamiche della capacità produttiva della pubblicità applicate ai contenuti del cinema sarebbe una bomba ed ho sempre lottato per fare questa cosa e devo dire che questa volta ci siamo riusciti e spero dimostreremo che è veramente una bomba poi fra l'altro in un momento come questo raccontare una cosa così importante dell'Italia questo sogno italiano che ha cambiato la moda per sempre una rivoluzione che ha cambiato l'Italia anche forse per sempre in un periodo in cui esportiamo sì tante cinematografie ma corruzione, mafia secondo me è anche proprio rispetto ai giovani rispetto al cinema italiano una bella cosa insomma e poi appunto il tema dell'osmosi tra mondi differenti porta sempre secondo me creazione di maggiore valore cosa ci vedi di pubblicitario qua o cosa ci vedi di film insomma cosa portate dentro di più o di meno di quello che poteva essere? ma diciamo che è interessante la domanda perché sicuramente la nostra preparazione atletica oserei dire di pubblicitari per cui devi essere super efficiente hai pochissimo tempo per risolvere qualsiasi problema i bei tempi andati in cui si metteva un giorno per fare un pezzo sono finiti da molto però qualcosa meno per cui devi volare devi essere efficace devi essere giusto la macchina da presa deve essere nel posto giusto il trucco devi averlo capito prima i vestiti li hai scelti su un'arella quindi questa nostra preparazione nostra di pubblicitaria atletica credo che che sia dando ottimi risultati ovviamente i tempi sono grazie a Dio un po' più brevi noi facciamo 8-18 come si dice in gergo se facessimo il classico orario pubblicitario 5 del mattina 5 del mattino saremmo morti e questo sicuramente è un plus tecnico che ci portiamo dalla pubblicità un'altra cosa che ci portiamo probabilmente dalla pubblicità è che già Luca ha applicato al cinema in altre volte è la capacità di essere immediatamente efficaci cioè sapere che quella scena se non ha quello sguardo se non ha quel dettaglio della mano se non ha quel campo lungo è zoppa non cerchiamo di non perderci più lui di me in estetismi cose che dice ah no no che bella lui dice sì però deve essere sempre sharp pratica in pubblicità ovviamente più volte ci innamoriamo giustamente anche perché spesso dobbiamo condire l'ambiente di bellezza perché poi il prodotto l'oggetto di per sé è come dire pratico ecco queste due cose secondo me unite insieme credo che possano dare un gran bel risultato speriamo venivo proprio da te anche magari per sottolineare cioè è la prima volta che fai una serie con una casa di produzione storicamente più adepta alla pubblicità e quindi cosa cosa porta anche di vantaggio questa nuova commestione no diciamo che sicuramente l'efficienza l'efficienza del set a questo livello di qualità è una cosa che dalla pubblicità è più è più automatica quindi anche tutti i professionisti che abbiamo coinvolto e che sono riusciti a coinvolgere loro insomma ovviamente è andato a un livello qualitativo volevo aggiungere una cosa al fatto a quello che sta facendo Ago secondo me di preziosissimo io ho sempre trovato nella sua pubblicità rispetto all'estetica normale che la forma era spesso anche contenuto cioè l'estetica sua realizzava il contenuto che se ci pensi è un po' quello che succede nella moda cioè a maggior ragione conoscendo la storia conoscendo questi stilisti fantastici la forma diventa anche contenuto e questo è quello che cerchiamo di fare e che lui sta facendo molto bene e diciamo anche noi la forma è sostanza molto gentile ma molto giusto la forma diventa sostanza soprattutto quando si guardano dei prodotti che devono rappresentare insomma poi un contenuto ad alto livello infatti quando quando mi hanno proposto questa serie io ho pensato su ormai ti ho chiamato due anni e mezzo due anni proprio per questo perché io da solo non sarei riuscito a farla e quindi era uno sguardo fondamentale di questo di questo racconto e poi se posso aggiungere una cosa in risposta alla tua domanda di prima della casa di produzione abituata a fare pubblicità io credo che ci sia una cosa meravigliosa su questo set che a parte Luca che in qualche modo una esperienza di serie è già la fatta per quasi tutti gli altri è nuova per cui come dire la fatica nelle gambe la scopri perché dice ma perché mi fa male tutti i muscoli però c'è negli occhi l'entusiasmo capito e questa cosa è fantastica guarda la riprova è che tutti gli attori che arrivano sul set dal più importante al più piccolo dicono ma che meravigliosa atmosfera che c'è ma ci fermiamo un giorno in più ma ti serve una mano cioè perché si percepisce che per noi è un gioco nuovo probabilmente alla 125 puntata diremo vabbè sai che c'è campo lungo da là perfetto il potere della passione della squadra che si crea è un'alchimia tutta particolare che dà dei risultati superiori anche alla somma delle parti e in questo devo dire anche ora si può dire perché forse qualcosa è sotto controllo la meravigliosa incoscienza con cui The Family si è buttata in questa avventura ci ha riempito di gioia ma quasi le lacrime cioè perché uno dice ma hanno ben non solo che cos'è la questione ma rischi perché poi alla fine si maneggiano tanti soldi mi sembra che stia andando alla grande per cui un commento tuo Ada su tutti questi discorsi che riporti a sistema qual è? no io sono felice perché in realtà insomma amo la produzione amo il cinema amo le serie amo lavorare con i registi e veramente ho sempre pensato lo penso tutti i giorni in pubblicità e a maggior ragione adesso che produttori e registi più stanno vicini più lavorano insieme migliori sono i risultati e quindi sono veramente molto contenta sono ancora abbastanza inconsapevole dei rischi che in realtà vedo ma ignoro ignoro perché penso fingo di ignorare perché in realtà penso che comunque ne valga assolutamente la pena e anzi spero che sia la prima di molte noi vogliamo essere invitati all'anteprima quando la farete vedere che sarà un lavoro stupendo assolutamente grazie mille grazie a te ciao 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 ciao